Acquistavano consistenti quantitativi di stupefacente in Spagna ed Olanda per poi rifornire le piazze di spaccio dell'agro sarnese Nocerino, dell'Interland Vesuviano ma anche del Lazio, del Milanese e della zona garganica della Puglia. Stamani all'alba il blitz dei finanzieri del Gico di Salerno che hanno eseguito 35 ordinanze di custodia cautelare di cui 30 in carcere e 5 ai domiciliari su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Salerno diretta dal procuratore Franco Roberti. L'organizzazione criminale era capeggiata da Giuseppe Alfano detto Peppe Osqualo, attualmente recluso in un carcere spagnolo per il quale è già stata chiesta l'estradizione. L'organizzazione agiva nell'agro sarnese Nocerino e precisamente nei comuni di Scafati, Angri e Pagani e nel territorio partenopeo di Pompei, Castellammare di Stabbia e Bosco Reale. Dalle indagini svolte si è potuto appurare che spesso il gruppo riforniva anche la piazza di spaccio di Secondigliano. Le indagini che hanno portato agli arresti di questa mattina ebbero inizio nel marzo del 2008 quando in Francia venne sequestrato un'autovettura, una Fiat Multipla partita dal Salernitano nel cui serbatoio di GPL erano sistemati 700.000 euro. L'auto con a bordo Tommaso Nappo di Poggio Marino e Arcadius Mai di Scafati, entrambi detenuti in Francia e raggiunti stamani dai provvedimenti cautelari, era diretta in Olanda dove avvenivano gli approvvigionamenti di stupefacente. L'operazione di questa mattina che vede indagate altre 37 persone ha consentito agli investigatori di sequestrare quote societarie di 17 imprese, tra cui locali pubblici, ditte impegnate nel campo dell'edilizia e della piccola distribuzione alimentare. Inoltre sono state sequestrate 69 autovetture, 27 motocicli, 9 abitazioni ed un terreno agricolo. Infine sono stati sequestrati anche 199 rapporti finanziari tra conti corrente, titoli depositi e cassette di sicurezza in 37 istituti di credito dislocati sull'intero territorio nazionale. Dal 2008 ad oggi sono stati sequestrati 11 kg di cocaina, 31 di hashish e anche due pistole semi-automatiche con matricole a brase ed un fucile con centinaia di munizioni. Le ha destato un poco di stupore il fatto che questa organizzazione rifornisse addirittura la piazza di spaccio più importante d'Europa? No, queste sono cose note, diciamo, dalle indagini che abbiamo svolto nei periodi trascorsi. Sapevamo già che c'erano organizzazioni insediate territorialmente nel Salernitano che avevano rapporti di fornitura con organizzazioni napoletane e viceversa. Con questa organizzazione, tra virgolette naturalmente, il fatturato anno di quant'era, più o meno? Ma noi abbiamo visto che, ve l'ho detto prima durante la conferenza, l'organizzazione faceva dei viaggi di denaro di 700 mila euro per volta e nel giro di 4-5 mesi ne ha fatti altri 4-5, quindi 6 per 7, 42, sono 4 milioni e 200 mila euro in 6 mesi. Questo per dirvi che capacità finanziaria potevano esprimere.